Musica Nasce questa nuova iniziativa della piccola PMI Academy Un'iniziativa che abbiamo voluto fortemente per i nostri imprenditori Per portare nuovi spunti di riflessioni e nuove iniziative Proprio per parlare in concreto di diverse tematiche ed iniziative che stanno a cuore ai nostri imprenditori Musica Vogliamo parlare, e il primo evento sarà su LinkedIn, ai nostri imprenditori con un linguaggio pratico e concreto Parleremo con coloro che da LinkedIn in Dublino verranno a portarci la loro testimonianza E sempre in abbinamento una case history di un nostro imprenditore Abbiamo organizzato questo evento con LinkedIn per dare alle imprese associate Una serie di informazioni sul principale social network business che c'è al mondo Conta centinaia di milioni di iscritti ma soprattutto circa 40 milioni di decision maker Che sono persone all'interno delle organizzazioni business che decidono Decidono di acquistare prodotti, decidono di scegliere dei prodotti Decidono di scegliere delle imprese anche in base all'immagine che si fanno rispetto a queste imprese Guardando LinkedIn, guardando le persone che compongono le imprese Guardando le recensioni che queste persone raccolgono attraverso il social network E quindi è uno strumento che sta diventando sempre più importante per il business Musica